C'è adrenalina nell'aria per le stralle di Roma. Dallo Stadio Olimpico di Roma, benvenuti. Un saluto da Piero Gipardo. Gigi Limpiaggio. Palla che diventa buona per Totti. C'è menè su quella linea, c'è anche perotta dentro. La conclusione, larga. Primo squillo vero della Roma con il capitano. Possibilità per il cross, dentro. Spazio per Amoruso, giù Sergio. Ma c'è la bandierina, c'è la bandierina alzata. Grande occasione per l'Atalanta. Occhio alla battuta di questo calcio d'angolo. Palla dentro a cercare Totti. Poi Vucinic, con la Vucinic. E poi Burtisso. Grande occasione per la Roma, con Burtisso. Buone lavoro di Vucinic. Vucinic, destro Vucinic. 1-0 Roma! Vucinic! È davvero una disgrazia per Consigli. Sì, se l'ha costruito da solo, questo gol. Ha dribblato, è andato avanti, ha cercato questa conclusione. Dove comunque Consigli poteva fare meglio, non è riuscito a trattenerla. Complice anche questo terreno un po' scivoloso. Cross dentro a Cassetti! 2-0 Roma! 2-0 Roma! Che palla, ragazzi. Che palla da parte di Totti con i giri contati. Aveva il pallone sotto il piede. Era difficile anche comunque cercarlo o pensarlo quel cross. Buono il suggerimento su Ferreira Pinto. Riese decisivo, ma diventa buona per Tiri Bocchi. Tiri Bocchi, Tiri Bocchi! 2-1 e l'Atalanta torna in partita. Sì, questo intercetto di Riese ha favorito Tiri Bocchi che non ha lasciato scampo a Giulio Sergio. È stato anche bravo perché comunque ci vuole freddezza, bisogna essere calmi e l'ha trovato con il pallo lungo. E così ha riaperto una partita che in questo momento sembrava chiusa. Prova ad andare De Rossi verticalmente verso Toni. Ancora Toni col gambone. Malla per Menesse. La lascia ancora a Totti. Totti prova a scucchiaiare per Toni. La tiene lì. Ancora Toni, era di rigore. Toni, Toni! Sul fondo, esterno della rete. Totti, posizione regolare. Attenzione al capitano. Palla per Toni! Destro piazzato alto. Des va fino in fondo, trova il corridoio per Tiri Bocchi. Giulio Sergio, attenzione, Ferreira Pinto. Destro, fa la deviazione, Tiri Bocchi. Di prova, largo! Ma che occasione! Possesso di palla, arrivata la chiusura, ancora. Ed è arrivato il fischio finale. La Roma soffre contro l'ottima Atalanta nel secondo tempo. Il campionato ha una nuova capolista. Nuova partita Sky, Gigi. Vucinic. Vucinic ha chiesto a giocare soltanto un tempo per messa di un migliore in campo. Dall'altra parte, Tiri Bocchi. Intanto, qualche polemica, qualcosa da dirsi. Ventitresimo risultato utile consecutivo per la Roma. Sicuramente sacrificio. È il nostro gruppo che, nonostante che abbiamo avuto i momenti difficili, è stato sempre unito. Qualche difficoltà nel secondo tempo, perché c'era tanta pressione anche su di voi per questo sorpasso sull'Inter? Ma pressione c'è sempre, però quando vinci 2-0 un po' di calo di concentrazione c'è sempre.